Ieri Matteo Renzi ha detto che a Milano non c'è nessun candidato per il centro-sinistra alle prossime elezioni. È evidente che si tratta di un momento di distrazione del Presidente del Consiglio. Ci sono due candidati già ufficiali e formalizzati, che sono Pierfrancesco Maiorino ed Emanuele Fiano. Si sta parlando in questi giorni di altre candidature possibili, quella di Giuseppe Sala e quella di Francesca Balzani. Come Milano tradizionalmente insegna, il percorso delle primarie, almeno per come le facciamo a Milano, è molto chiaro. C'è una raccolta di firme, entro delle date, delle presentazioni di candidature formalizzate e da allora inizierà la costruzione di quel grande laboratorio di idee che le primarie sono, ovvero il confronto tra visioni differenti della città per poi davvero costruire una candidatura forte che sappia proseguire l'esperienza di governo del centro-sinistra estremamente positiva per Milano.